Allora, andiamo a vedere una tecnica in energia muscolare per lo peregoideo laterale. Ci diamo al paziente di aprire la bocca leggermente. Se vediamo che c'è una deviazione a destra, ci posizioniamo lateralmente alla mandibola in questo modo, supportiamo la sutura coronale con la nostra mano superiore e chiediamo al paziente di spingere la mandibola verso di noi, quindi verso destra. Vai! E nello stesso momento della contrazione, quindi in maniera isolitica, andiamo a portare la mandibola dall'altro lato. Quindi per riassumere una tecnica in modalità isolitica che va a coinvolgere soprattutto l'opterigoideo laterale. Now, we're going to work on the left one, all right? We get the patient to open the mouth halfway. Open the mouth. Push to the left. Sting. You resist. And then you gradually build up pressure and move the jaw into the midline. Hold there for approximately 10 seconds. Manteniamo per circa 10 secondi la contrazione abbinata alla spinta. So, the idea there is that you're using a muscle energy technique to stretch out the actual sort of contracted lateral pterygoids. Once you've done that, you will then get the patient to open the mouth, close, and then recheck to see if there is still a deviation. Quindi una volta fatta la tecnica, quando abbiamo terminato, richiediamo al paziente di fare il movimento di apertura rispetto a come abbiamo fatto prima, per valutare se ci sono ancora delle deviazioni oppure no. If there is still a deviation, then I would repeat the technique up to three times. Se c'è ancora una deviazione, ripetiamo la tecnica fino a tre volte. Ok, so, let's have a go at that. Proviamo questa. Sì. Domande?